È una partita, sicuro che per noi conta solo vincere. Sempre ogni partita che abbiamo giocato con l'Atalanta sono stati equilibrati fino alla fine. Alla fine è una partita di calcio, dopo faremo tutto il vincere. Capitan Pezzella dice tutto in pochi secondi. Pur consapevole della difficoltà della partita, giovedì sera a Bergamo la Fiorentina ci proverà. E la chiave in fin dei conti è forse proprio quella, nonostante i 16 punti di differenza in campionato, un'enormità. Quando in questa stagione le due squadre si sono trovate di fronte, le partite sono sempre state sul filo. Certo, i favori del pronostico vanno innegabilmente alla formazione nera azzurra, al di là del 3-3 ottenuto al Franchi all'andata. C'è infatti anche da tenere presente il momento di forma. Da quando c'è Montella e Viola stanno migliorando, ma i nera azzurri volano, trascinati letteralmente dall'ex Ilicic. L'impresa in rimonta di lunedì sera a Napoli li ha pienamente lanciati anche dentro il sogno Champions League. Hanno appaiato il Milan al quarto posto in classifica. Ma Gasperini non teme dispersione di energie visto il doppio obiettivo. Anzi... Questa è una partita che ci ha distolto dalla tensione della gara con la Fiorentina, perché è due mesi che dobbiamo giocare a sta semifinale. È arrivata in questo momento del campionato, però va bene, abbiamo deciso di pensare a una gara per volta. Ma anche oggi nell'intervallo c'è stata una fortissima reazione, una voglia proprio di giocarsi la partita senza fare nessun tipo di calcoli. Grazie.